delitto Schettini ha arrestato il figlio, la procura dei minori di Catanzaro e la squadra mobile di Cosenza chiudono il giallo sulla morte dell'insegnante di musica, trovata morte il primo aprile scorso non è stato un incidente. Parco Romani, gatto e speciali condannati, la sentenza del gruppo di Catanzaro a carico dei due imprenditori a 5 e 4 mesi, 3 le soluzioni pronunciate, 4 invece le pene inflitte per falso, abuso d'ufficio, tentata concussione e concussione. Gallo batte Graziano Altar, la giustizia amministrativa accoglie il ricorso presentato contro il consigliere regionale in carica che sarebbe stato ineleggibile e che adesso dovrebbe lasciare a Palazzo Campanella. Comunali di Lamezia, dubbi e confronti, l'arresto di un candidato, le rivelazioni di un pentito su un altro candidato, nel frattempo gli aspiranti sindaci si confrontano negli studi della C. I nostri giornalisti convocati dal comune, il rituale paradossale convocazione di due giornalisti della C. che vengono chiamati a mezzo raccomandata per essere interrogati da un dirigente comunale nell'ambito del procedimento disciplinare contro un dipendente dell'ente. Telespettatori di La C, benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione in apertura del nostro telegiornale La Cronaca con il giallo dell'insegnante di musica trovata morta a Cosenza. La donna non è stata vittima di un incidente ma sarebbe stata uccisa stamani e la squadra mobile ha arrestato il figlio minorenne, il servizio di Elvira Madrigrano. È stato arrestato e trasportato nel carcere minorile di Catanzaro il figlio minorenne di Patrizia Schettini, l'insegnante di 53 anni trovata senza vita nella sua abitazione a Colle degli Olivi a Donnici Frazione di Cosenza. La donna era sposata e aveva adottato due bambini, uno dei due oggi è maggiorenne. Il minorenne, difeso dagli avvocati Marco Facciolla e Gianfrancesco Vetere, deve rispondere di omicidio volontario, aggravato dai futili motivi. Secondo quanto ricostruito, il figlio della donna l'avrebbe strangolata a mani nude, poi sbattuta contro un muro, rompendole l'osso del collo. Infine l'avrebbe presa in braccio portandolo vicino una rampa di scale e fatta volare giù per simulare una caduta accidentale. Il giovane è stato sentito dalla procura per i minorenni di Catanzaro due volte. Quando è stato messo con le spalle al muro ha rilasciato delle ammissioni. Raccontando che la madre lo sgridava troppo spesso e che in un raptus l'avrebbe semplicemente spinta per le scale. Il tentativo di sostenere un omicidio preterintenzionale è però in contrasto con gli elementi raccolti dalla polizia. Patrizia Schettini era un'insegnante di pianoforte molto conosciuta e apprezzata dai colleghi e soprattutto dagli allievi, ai quali ha sempre cercato di infondere la sua profonda passione per la musica. E adesso una notizia di cronaca giudiziaria. Pochi minuti addietro la sentenza dell'importante processo Parco Romani a Catanzaro condannati gli imprenditori gatto e speziali. Il servizio di Gabriella Passariello. Si è concluso con tre assoluzioni e quattro condanne il primo capitolo giudiziario per i sette imputati giudicati con rito abbreviato coinvolti nell'inchiesta su Parco Romani, il centro commerciale direzionale di Catanzaro Sala. Il gruppo del Tribunale del Capoluogo e l'Aria Tarantino ha inflitto le pene più pesanti a carico di Giuseppe Grillo, presidente della società municipalizzata Catanzaro Servizi e dell'avvocato Marina Pecoraro, rispettivamente condannati a 11 mesi e 10 giorni e 9 mesi e 10 giorni. Giuseppe Gatto, ex presidente di Confindustria Catanzaro, ha 5 mesi, 10 giorni e 130 euro di multa, per Giuseppe Speziali, ex presidente di Confindustria Calabria, 4 mesi e 130 euro di multa, assolti Alba Felicetti e Pasquale Costantino, dirigenti comunali e Francesco Lacava, ex consigliere comunale e presidente del consiglio d'amministrazione della società Parco Romani. Il PM Fabiana Rapino aveva chiesto al termine della requisitoria la condanna per tutti per i reati a vario titolo di falso, abuso di ufficio, tentata, truffa aggravata, tentata percezione di fondi pubblici, corruzione, distrazione, soppressione, occultamento di atti, concussione, tranne che per speziali, rispetto al quale, per la pubblica accusa, le prove sarebbero state insufficienti. E passiamo al Consiglio regionale con una notizia di carattere politico giudiziario. Il TAR ha accolto la tesi di Gianluca Gallo che contestava l'inelegibilità di Giuseppe Graziano al punto della situazione nel servizio di Tonino Fortuna. Il colpo di scena che non ti aspetti tra ricorsi e contro ricorsi viene messa seriamente a repentaglio la fisionomia del Consiglio regionale. L'ultima sentenza in ordine di tempo arriva dal Tribunale Civile di Catanzaro che nelle scorse ore ha dichiarato inelegibile Giuseppe Graziano eletto nello scorso gennaio che occupa il proprio scranno a Palazzo Campanella a spese di Gianluca Gallo, ex Udc, poi transitato nello schieramento che sosteneva la corsa di Vandaferro alla guida di Palazzo Alemanni. Le ragioni del verdetto sono da ricondurre al mancato rispetto dei tempi per l'aspettativa preelettorale del diretto interessato dal Corpo Forestale dello Stato. La sentenza non sconvolge, almeno per il momento, ad ogni modo l'assetto dell'astronave. Graziano ha prontamente fatto ricorso in secondo grado. I suoi regali proporranno appello contro il verdetto pronunciato nella giornata di ieri. Certo che dopo i ricorsi di Claudio Parente contro Giuseppe Mangialavori, senza esito, e quello di Vandaferro, ancora all'esame della consulta, per la massima assise calabrese non c'è davvero pace. E si fa sempre più avvelenata la campagna elettorale lamettina. Ieri la notizia diffusa dal Corriere della Calabria, secondo cui uno dei candidati nelle liste di Mascaro, Pino Cerra, sarebbe stato citato dal boss Giampà, tra coloro che gli chiesero di interessarsi alla loro elezione in Consiglio. Il servizio di Tiziana Bagnato. Mette alla porta anche il candidato al Consiglio Comunale, Pino Cerra, Paolo Mascaro, appena raggiunto dalla notizia diffusa dai colleghi del Corriere della Calabria, secondo cui l'uomo sarebbe stato citato lo scorso mese di febbraio durante una delle deposizioni in aula del pentito Giuseppe Giampà, come uno di coloro che, in una delle precedenti competizioni elettorali, si rivolse a lui per essere aiutato nella raccolta di voti. In politica non vige il principio della presunzione di innocenza, anche se il prezzo della rinuncia a questo cardine della nostra civiltà può in ultimo rivelarsi ingiusto e personalmente insopportabile, affermato Mascaro, dal momento che nel farne a meno, in un caso come questo, si finisce per consegnare l'onorabilità di una persona ad uno come Giuseppe Giampà, ad un soggetto che si è macchiato di orrendi delitti ed ha insanguinato per lunghi anni impunemente le strade della nostra città. Intanto ieri Pasqualino Ruberto, leader di Labor, ha iniziato il suo tour elettorale prima agli ultimi dal quartiere ad alta densità Rom, Ciampa di Cavallo. A loro si è rivolto stigmatizzando le condizioni di vita in cui sono costretti e richiamando all'urgenza di non cadere nelle tentazioni di delinquere. E proprio in merito alle elezioni amministrative di La Mezzia Terme, oggi i sei candidati alla carica di sindaco si confronteranno sulla C, la tribuna sarà trasmessa stasera alle 21.15. Ascoltiamo. Due ore di confronto serrato, 120 minuti di domande, approfondimenti, analisi, andrà in onda questa sera alle 21.15 sulla C, il confronto tra i sei candidati a sindaco di La Mezzia Terme. Una campagna, quella lametina, avvelenata e urticante che nelle ultime settimane ha visto scossoni non solo politici ma anche giudiziari. Nei nostri studi sarà ospite il medico Tommaso Sonni, candidato unico del centro-sinistra, riuscito a superare alle primarie il temuto candidato del PD Enzo Richichi, ora a capo di una delle liste che lo sostengono. Paolo Mascaro, avvocato ex presidente della Vigor La Mezzia, esponente del mondo civile che ha raccolto attorno a sé un'imponente cordata di partiti. Attorno a lui, Partito Socialista Italiano, Forza Italia, Udc, MTL, Partito Repubblicano, Nuovo Centrodestra e CDU. Pasqualino Ruberto, ex presidente dell'ente in house della regione Calabria Etica, esponente di labor, sostenuto dal mondo civico e da Fratelli d'Italia e Forza Nuova. Giuseppe Di Polito, esponente del Movimento 5 Stelle, più volte legale di Beppe Grillo, porta avanti la sua battaglia per la trasparenza e il rispetto delle regole. Ha lanciato un avviso pubblico per la selezione dei componenti della sua giunta. Mimmo Gianturco, segretario regionale di Casa Pound, candidato con il Movimento Sovranità prima gli italiani. Nicolino Mazzocca, un passato nell'Udc, ora espressione di idee in movimento. A tenere le redini del confronto sarà il direttore della C Pietro Comito, affiancato dalla giornalista Tiziana Bagnato. Grazie a tutti. Vicenda. L'amministrazione comunale di Vibo Valencia ha una burocrazia ridotta all'osso, due soli dirigenti, Adriana Teti e l'ex comandante della Polizia Municipale, comunque dirigente di settore, Filippo Nesci, a cui tra l'altro il prefetto ha revocato anche la licenza di pubblica sicurezza. Già, una burocrazia nella quale forse sarebbe opportuno mettere mano. La questione l'avevamo sollevata in occasione dell'ultima tribuna politica con i candidati a sindaco di Vibo Valencia. Qualcuno però sembra che non l'abbia presa bene e così, come se fosse investito di poteri di polizia giudiziaria e non lo è, il dirigente comunale Filippo Nesci ha convocato a mezz'ora comandata due giornalisti della C, Cristina Iannuzzi, volto storico della TV vibonese, e Pasquale Motta, il nostro inviato speciale. Nesci scrive in veste di presidente dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, oggetto l'audizione nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del dipendente Nusdeo Antonio. Potrebbe trattarsi dello stesso Nusdeo che per denunciare presunte vestazioni subite dall'amministrazione comunale di Vibo Valencia è stato costretto a rivolgersi, oltre che l'autorità giudiziaria, anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Convocati i due giornalisti per essere auditi domani alle 15, dove? Negli uffici del comando di polizia municipale, dove l'ormai ex comandante ha comunque insediato la sua commissione. Non se la prenda, i nostri giornalisti non si presenteranno. Noi ci vediamo un avvertimento in questa convocazione, non ci piace ed offre l'esatta dimensione di come ormai agisce il comune di Vibo Valencia. La procura di Catanzaro e le forze dell'ordine hanno fatto luce su un episodio di cronaca che si inserisce nell'escalation che sta interessando la città capoluogo di provincia. Si tratta della rapina al Sidis dello scorso 9 aprile. Il servizio di Gabriella Passariello. E' finito in manette Daniele Carchidi, 28 anni, residente alla Mezzia e in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP Assunta Maiore su richiesta della procura di Catanzaro, ritenuto uno degli autori che la sera del 9 aprile prese di mira il supermercato Maxi Sidis nel quartiere Ponte Piccolo del capoluogo portando via l'incasso dopo aver minacciato i dipendenti. La banda, composta da quattro persone, tre dei quali hanno fatto eruzione nel negozio e uno faceva il palo, sono andati via con il volto coperto da un passamontagne e armati di pistola a bordo di un'auto. I particolari dell'operazione sono stati resi noti oggi nel corso di una conferenza stampa al Comando Provinciale dei Carabinieri, dove era presente anche il procuratore aggiunto della DDA Giovanni Bombardieri, che ha spiegato come la richiesta di custodia cautelare fosse stata emessa anche a carico di un secondo indagato, Alessandro Bevilacqua, di etnia Roma, richiesta bocciata dal giudice per le indagini preliminari. Siamo convinti, ha detto l'aggiunto, delle responsabilità di Bevilacqua, ex sorvegliato speciale e siamo sulle tracce degli altri due criminali. E adesso in 120 secondi le altre notizie di cronaca della giornata. Falso allarme a Vibo Valencia, due telefonate anonime hanno segnalato la presenza di una bomba nelle due sedi cittadine. A scopo precauzionale, gli uffici sono stati evacuati. Sul posto sono intervenuti polizie e carabinieri insieme alle unità cinofile. Gli accurati controlli effettuati non hanno dato alcun riscontro. Le udienze sono dunque riprese regolarmente dopo una breve sospensione. Tra le udienze sospese c'è anche quella del processo Black Money, che vede imputati gli esponenti della COSC d'Indrangheta dai Mancuso. I detenuti sono stati allontanati per poi far rientro nell'aula bunker. Beni per 2 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri della sezione di polizia giudiziaria e dal gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme a diversi operatori economici accusati di bancarotta. Il provvedimento, disposto dalla locale procura, è scaturito da indagini svolte dalle fiamme gialle a seguito del fallimento di una nota società operante nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di abbigliamento di altri articoli destinati principalmente ai bambini. L'attività investigativa avrebbe permesso di accertare la commissione da parte delle sei persone indagate di numerosi reati fallimentari, tra cui la bancarotta documentale e quella patrimoniale. I giudici della Corte d'Assise ed Appello di Catanzaro hanno ridotto a 18 anni e 6 mesi la condanna a 30 anni combinata in primo grado a Filippo d'Aprile di 54 anni, accusato della morte di Yolanda Nocito, la donna di 80 anni, uccisa nel 2013 nel corso di una rapina nella sua abitazione a Belvedere Marittimo. La sentenza di primo grado era stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Paola al termine del processo con rito abbreviato. La Guardia di Finanza di Crotone ha denunciato un imprenditore attivo nel settore del commercio all'ingrosso con l'accusa di bancarotta fraudolente e simulazione di reato. Nel corso delle indagini è emerso che l'imprenditore, dopo il fallimento della sua azienda, avrebbe simulato un furto di merci ed attrezzature per 830 mila euro. I finanziari hanno scoperto invece che alcuni beni erano stati ceduti ad un cliente con l'emissione di una regolare fattura. E adesso torniamo all'indagine Doomsday, che ieri ha disarticolato la cosca Rango Zingare di Cosenza. Approfondiamo gli atti dell'inchiesta del PM per Pierpaolo Bruni, che ribadisce come il gruppo criminale ha ormai assunto la leadership del traffico di droga e l'egemonia nella città Abruzzia. Elvira Madrigrano. La cosca Rango Zingari ha il monopolio del traffico di droga nel Cosenzino. Il singolo pusher non si può muovere, hanno spiegato gli inquirenti durante la conferenza stampa dell'operazione Doomsday, senza il consenso del clan. Comandano su tutto, impongono il pizzo e hanno le mani in pasto nei traffici di droga e nel malaffare in genere. Da quando è stato ucciso Luca Bruni, il rampollo dell'omonima famiglia di Andrangheta, i Rom sono saliti definitivamente al vertice di quella Andrangheta potentissima, che in fondo è un impasto genetico tra nomadi e italiani. Questi gli elementi principali che emergono dall'indagine Doomsday, l'operazione dei carabinieri del reparto operativo di Cosenza, che ha portato all'arresto di 12 persone, esponenti di spicco dell'Andrangheta, accusati di associazione mafiosa, estorsione, associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e detenzione porto illegale di armi. E adesso vediamo come il procuratore di Catanzaro, Vincenzo Antonio Lombardo, ha spiegato l'ascesa del clan Rango Zingari e l'importanza dell'operazione di ieri. I superstiti del clan Bruni Bellabella si sono alleati con gli Zingari e questa cosca è molto forte. Noi l'abbiamo già colpita a novembre scorso, ma c'erano dei filoni investigativi da sviluppare, lo abbiamo fatto. Queste operazioni devono servire per far capire ai cittadini che se la giustizia è messa in condizioni di agire, lo fa con velocità e con rapidità, con provvedimenti immediati, urgenti, come quello che abbiamo adattato oggi, che ha consentito, come ho detto, di impinguare, se così si può dire, i partecipi, gli intranei al gruppo Rango Zingari attraverso nuovi sodali che sono stati scoperti, di ricostruire alcune vicende estorsive e di riuscire a capire che questo clan, oltre che le estorsioni, oltre che una serie di altre attività tipiche dell'associazione d'Indrangheta, che tale va considerato il ritenuto del clan Rango Zingari, ha esercito anche su Cosenza il monopolio dell'attività di sostanze stupefacenti. Protocollo d'intesa firmato a Catanzaro per avviare un sistema di videosorveglianza necessario a rendere la città capoluogo di regione alle prese ormai con una vera e propria escalation criminale più sicura. Gabriella Passariello. Se ne è parlato tanto nell'ultimo anno e finalmente il protocollo d'intesa per il ripristino e la manutenzione del sistema di videosorveglianza sottoscritto a Palazzo di Governo dal sindaco Sergio Abramo e il prefetto Luisa Latella è diventato realtà. Il protocollo era già stato concordato nelle scorse settimane in seguito alla riunione del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica per affrontare la problematica dell'escalation criminale che sta interessando il territorio catanzarese. L'intesa prevede che l'amministrazione comunale si farà carico di tutte le spese necessarie per la riparazione, il ripristino e la successiva manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di quelle per l'alimentazione energetica dell'impianto già esistente realizzato nel 2007 tramite i finanziamenti PON Sicurezza. L'intervento vedrà la supervisione dei tecnici di zona telecomunicazioni Calabria della Questura di Catanzaro e prevede l'attivazione di 20 telecamere su diverse zone già individuate lungo l'intero territorio comunale e cablate con sistema di fibra ottica. L'accordo tra Comune e Prefettura prevede inoltre la possibilità di concordare eventuali modalità operative per rendere funzionale l'impianto anche per l'utilizzo da parte del Comando di Polizia Municipale. E a margine della sottoscrizione del protocollo d'intesa che prevede l'avvio della videosorveglianza a Catanzaro abbiamo ascoltato il Prefetto Luisa Latella e il Sindaco Sergio Abramo. Preso un vecchio progetto del Ministero dell'Interno realizzato qui sul territorio di Catanzaro con i fondi del Ponsicurezza nella programmazione 2000-2006 e che non era attivo, non era operativo perché non c'era la manutenzione. La manutenzione secondo quelle che sono le regole comunitarie va in capo al beneficiare il beneficiare in questo caso è il territorio del Comune di Catanzaro quindi con il Comune e quindi con il Sindaco non stiamo facendo altro che portare a compimento quello che era un'attività che è iniziata diverso tempo fa. La videosorveglianza non è la soluzione del problema però sicuramente è uno strumento utile sia alle forze di polizia sia alla polizia municipale per i loro scopi. Questo sistema di telecamere servirà sicuramente a supportare il lavoro che stanno facendo egregio le forze dell'ordine. Diciamo che a livello di statistiche così come presentate dal Prefetto non siamo in forte allarme perché abbiamo visto anche le statistiche delle altre città ma questo non significa che prevenire non sia utile e quindi credo che l'intervento che stia facendo l'amministrazione comunale era l'unica che potesse fare oltre ad un altro progetto che abbiamo intenzione di portare avanti insieme a alcuni collaboratori nei vari quartieri ma questo è un primo step perché sicuramente servirà tantissimo in un momento come questo. Un importante documento è stato siglato tra il Comune di Reggio Calabria e la Direzione Marittima di Calabria e Basilicata. L'intento è quello di agevolare le operazioni di accoglienza. Sentiamo Antonella Chirico. Per affronteggiare l'emergenza umanitaria relativa ai continui sbarchi sulle coste regine è stato firmato un accordo tra l'amministrazione comunale di Reggio Calabria e la Direzione Marittima di Calabria e Basilicata con il documento siglato dal Sindaco Giuseppe Falcomatà e dal Capitano di Vascello Andrea Agostinelli viene messa a disposizione del Comune Regino la sede storica della Capitaneria di Porto per accogliere in particolare i minori stranieri non accompagnati che giungono a Reggio. Tutto questo per agevolare l'attesa dell'assistenza ai ragazzi e alle ragazze e per la futura appropriata sistemazione. La consegna dell'edificio fino a questo momento in uso alla Guardia Costiera si inserisce nella serie di attività sinergiche delle varie istituzioni locali coordinate dal Prefetto San Martino. Nello specifico litera del verbale di consegna dello stabile si è svolto con il supporto tecnico del Provveditorato Opere Pubbliche Ufficio Opere Marittime di Reggio Calabria e ha registrato la sua positiva conclusione con le autorizzazioni rilasciate dalla Ministero delle Infrastrutture e dalla Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Ed in merito al documento di cui vi abbiamo riferito in questo servizio è soddisfatto il primo cittadino della Città dello Stretto Giuseppe Falcomatà che ai nostri microfoni sottolinea l'esigenza di un apporto più incisivo nazionale ed europeo per fronteggiare l'emergenza. In una città in cui c'è una forte emergenza anche a trovare delle strutture idonee per la prima accoglienza nei confronti dei migranti che sbarcano nel porto di Reggio Calabria ritengo che questo sia un gesto di collaborazione importante, di sinergia tra enti istituzionali che ci può fare guardare con ottimismo anche ai prossimi sbarchi. Naturalmente, oltre al ringraziamento e alla disponibilità, però è chiaro che non ci si può fermare qui. L'emergenza sbarchi impone una riflessione più ampia la città di Reggio Calabria non ce la fa né tantomeno ce la può fare soltanto attraverso la concessione di quest'immobile. Lo abbiamo detto più volte non abbiamo risorse economiche risorse umane, risorse logistiche per poterci occupare in prima persona di questa emergenza quindi è opportuno e lo stiamo ribadendo in tutti i tavoli anche interministeriali che trattandosi di una operazione europea ognuno faccia la propria parte non si può lasciare soltanto ai comuni la responsabilità di organizzare la prima accoglienza organizzare le procedure di carattere igienico-sanitario perché significa soltanto dare responsabilità a chi oggi non è nelle condizioni di potersele assumere. Spostiamoci nel capoluogo di Regione dove il sindaco Sergio Abramo ha incontrato Catanzaro in rete obiettivo comune redigere un piano per il rilancio del commercio in città. Saracinesche che si abbassano giorno dopo giorno un centro storico dove i titolari di attività commerciali chiudono i battenti e i negozi di abbigliamento si contano sul palmo di una mano una situazione a cui il sindaco Sergio Abramo intende porre rimedio e proprio ieri pomeriggio a Palazzo dei Nobili ha incontrato il comitato direttivo di Catanzaro in rete composta da commercianti consulenti di impresa e titolari di agenzie e di servizi soffermandosi sulle possibili iniziative da realizzare per migliorare la qualità dei servizi e incrementare l'attrattività del centro storico delle sue peculiarità culturali e sociali. Si è discusso inoltre delle misure lanciate da Fincalabra per il sostegno alle attività commerciali e delle eventuali iniziative da concretizzare per migliorare la viabilità e il decoro urbano e per ottimizzare il sistema dei parcheggi a servizio del centro cittadino. Abramo ha illustrato tutti i progetti in cantiere per rilanciare la città da Corso Mazzini a quartiere Lido e il comitato ha assicurato la propria disponibilità a stilare un piano di eventi culturali che possono aumentare la capacità attrattiva del centro storico. A Vibo Valencia si è celebrato il congresso della Feder Consumatorio un appuntamento importante nel quale si è discusso dei diritti spesso violati del cittadino. Ascoltiamo. Celebrato nella sala congressi Antonino Murmura della Camera di Commercio di Vibo Valencia il congresso regionale della Feder Consumatori. L'organizzazione da tempo si occupa delle problematiche più stridenti in relazione ai diritti dei consumatori e dei cittadini. Significative sono state le battaglie in questa regione sulle polizie assicurative estremamente alte, sul sistema dei trasporti locali e sulle tematiche inerenti di servizi nel sistema sanitario regionale. Una per tutte le lunghe liste d'attesa. Questi temi che hanno caratterizzato l'organizzazione dei consumatori in Calabria e sui quali ha relazionato in apertura di congresso la presidente regionale Cinzia Musella. All'incontro ha partecipato oltre ai rappresentanti sindacali carabresi il vicepresidente del Consiglio regionale Enzo Ciconte che si è impegnato a sostenere la piattaforma dell'organizzazione. Le conclusioni dell'assise congressuale sono state affidate al vicepresidente nazionale Sergio Veroli. La fede del consumatore svolge un ruolo importante come il sindacato difende il lavoratore nella fabbrica, nell'ufficio la fede del consumatore difende i cittadini. Un cittadino a volte risente disarmato rispetto ai grandi colossi dell'energia delle banche eccetera e quindi la fede del consumatore con i suoi 800 sportelli con gli avvocati con gli operatori eccetera in ogni sportello riescono a dargli una mano ad essere a fianco del cittadino per affrontare tutti i problemi. E voltiamo pagina parliamo di arte e spettacolo c'è grande attesa per l'arrivo al Politeama di Catanzaro di Eleonora Bagnato l'Etoile della Danza sarà protagonista di una serata unica Gabriella Passariello Eleonora Bagnato che domenica prossima chiuderà la stagione del Teatro Politeama conferma il ruolo di Catanzaro come città degli eventi sarà l'occasione per ammirare dal vivo un'autentica stella della danza internazionale che è stata la prima italiana a essere ammessa da giovanissima alla prestigiosa scuola dell'Opera di Parigi e che continua a rappresentare una bandiera dell'arte italiana in tutto il mondo un grande show che chiuderà in maniera ideale la stagione del Politeama su cui l'amministrazione Abramo ha puntato nell'ottica di promozione della città offrendo un cartellone di qualità l'abbagnato si esibirà sul palco insieme ai suoi colleghi per una serata che si preannuncia indimenticabile e che riveste un'importanza ancora più rilevante se si considera che la danzatrice è stata nei giorni scorsi nominata direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma un incarico ha detto l'assessore alla cultura Daniele Carrozza arriva a coordinamento di una carriera straordinaria e che ne sono certa l'abbagnato rivestirà con grande capacità con l'auspicio dichiarato di rilanciare la danza italiana e contribuire ad innalzare il livello di qualità del teatro italiano Da un evento all'altro a Catanzaro il 21 maggio arriverà Gianni Dell'Aglio fondatore dei ribelli e storico percussionista di Celentano e Battisti un appuntamento da non perdere per gli appassionati Al Museo del Rock si inaugura il ciclo di incontri d'autore sull'onda del successo riscontrato con l'apertura della nuova sede nel cuore del centro storico giovedì 21 maggio alle 18.30 sarà protagonista Gianni Dell'Aglio fondatore del gruppo Beat i ribelli storico batterista di Adriano Celentano e di Lucio Battisti che visiterà le sale del museo e presenterà la sua autobiografia Batti un colpo due metri quadrati di paradiso di recente pubblicazione l'evento promosso dal comune di Catanzaro con il sostegno di Confindustria Catanzaro sarà arricchito da ascolti guidati e filmati che proietteranno tutti gli appassionati in un viaggio indietro nel tempo fino al periodo d'oro della musica leggera italiana l'evento catanzarese offrirà l'opportunità di ripercorrere le vicende umane ed artistiche del grande artista dagli esordi alla fine degli anni 50 fino ai giorni nostri un asse portante raccontato nel libro e la grande amicizia con Adriano Celentano che lo ha voluto con sé per oltre 50 anni e poi la nascita dei ribelli e l'incontro con Demetrio Statos l'indimenticabile interprete di Pugni Chiusi e la storia continua accanto a Lucio Battisti fino all'indimenticabile duetto con Mina Ed è tutto termina qui l'appuntamento con l'informazione adesso ci fermiamo per qualche minuto poi torniamo in studio con lo sport visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia da lunedì 27 aprile l'edizione giorno della C News 24 va in onda alle 13 e 45 i calabresi sono informati Grazie a tutti